Gli alunni sono circa 650, in realtà negli ultimi anni come un po' in tutta Italia con il calo delle nascite sono diminuite però la nostra è una scommessa importante, noi abbiamo investito e stiamo investendo tantissimo nelle scuole e abbiamo veramente a cuore che anche le iscrizioni vengano incrementate per lo stesso motivo i ben circa 80 posti, se non vado errata, nei nidi, quindi nei servizi all'infanzia di Cavriglia insomma testimoniano ecco questo impegno e questa strada in particolare mi preme però anche sottolineare un po' il progetto di quest'anno abbiamo realizzato una cartolina per l'anno scolastico 2022-2023 a firma del nostro sindaco indirizzata a tutti gli alunni iscritti alle scuole dell'istituto comprensivo Dante Alighieri appunto del comune di Cavriglia e qui ci sono ritratte insomma nelle foto le nostre sfide, lo sport, le fonti rinnovabili, il benessere, la cultura, la bellezza e vogliamo che i nostri studenti, i nostri alunni siano i primi cittadini coinvolti per questo motivo nei prossimi giorni questa cartolina verrà proprio recapitata a ciascuno di loro insieme anche ad un quaderno un quaderno che li vedrà protagonisti dal punto di vista della scrittura perché noi vogliamo proprio scrivere insieme ai nostri ragazzi il futuro di Cavriglia e questo diciamo è ovviamente un inizio simbolico però il coinvolgimento dovrà, deve essere concreto insieme a tutti